Dopo il successo della prima edizione del 2016 torna il bilancio partecipativo della città di Pavia con importanti novità. Tutti i cittadini residenti a Pavia di almeno 16 anni e gli studenti dell'università possono decidere come spendere 300.000 euro del bilancio 2017. Bilancio partecipato alla seconda edizione, quest'anno ci saranno due novità in particolare. Sì, allora principalmente abbiamo deciso di dilatare un po' i tempi proprio per cercare di raggiungere il maggior numero di cittadini possibili. Quindi partiremo questa settimana con gli incontri di presentazione ma poi dal 15 di febbraio al 15 di marzo sarà possibile presentare le idee all'interno di un portale nuovo partecipa.comune.pv.it che vuole essere un portale interattivo dove i cittadini potranno andare a caricare le idee che verranno immediatamente visualizzate e dove sarà possibile anche esprimere il proprio gradimento che non equivale al voto ma a tutte le idee. Questo ci permetterà quindi attraverso i vari mi piace e delle varie idee di avere anche un po' il polso di come i cittadini apprezzano alcune idee piuttosto che le altre. E poi riparte un po' tutto il percorso appunto con i tempi un po' più ampi per favorire un maggiore coinvolgimento dei cittadini. Per quanto riguarda le risorse economiche sono sempre 300.000 euro. Sì, sempre 300.000 euro a disposizione dei cittadini, 100.000 euro per quanto riguarda la spesa corrente, 200.000 euro per le spese di investimento. I cittadini ci propongano delle idee, noi ci faremo carico di realizzarle. Quindi le aspettiamo dal 15 febbraio, apriamo il sito e il portale, mandateci le vostre idee, le valuteremo e alla fine quelle che avranno raggiunto il numero di voti necessari, insomma quelle che arriveranno in fondo a questo percorso verranno realizzate così come abbiamo fatto nel 2016.